Nuova puntata di Automobilista Milanese Incazzato Questa volta parliamo di un altro esempio di manovra così arrogante che però non si sa bene perché, almeno nel mio caso, tante volte me la prendo con chi non riesce a impedire a queste persone di fare la manovra piuttosto che colpevole vero e proprio Chissà, magari ha a che fare col fatto che siamo abituati a vedere così tante ingiustizie lasciate impunite che alla fine, almeno nel mio caso, me la prendo più con chi avrebbe potuto cercare di evitare che questa cosa fosse stata fatta Nel caso specifico è veramente esplicativo, tre persone che se ne sbattono degli altri fanno una cosa che non andava fatta e io cerco di consigliare a tutti voi che siete in strada, sempre rimanendo nell'ambito della sicurezza di cercare in qualche modo di evitare che queste cose accadano, rendergli la vita quanto meno difficile Vediamo la clip Altro grave errore, questa è una svolta in cui molti furbi vedendo la coda Eccola, beccato in pieno uno che siccome lui ha fretta, noi no, lui ha fretta quindi deve evitare la coda e si inserisce tagliando dentro, tra l'altro ovviamente con riga continua che non si può ma lo capite già da soli Però l'errore, tra virgolette, è anche di chi adesso comanda la fila qui è stato troppo all'interno sulla sinistra, lì in quei casi devi metterti tutto a destra Così chi prova a fare il fubro come quello che abbiamo visto in diretta è due, tre, vedete quanti? Bisogna chiudergli la porta a questi ragazzi, lo so che è un imbruttimento ma se no la gente ne approfitta Torniamo a parlare di cattiva gestione degli spazi La prima auto gira correttamente, a fianco lascia spazio per un'altra che però non si mette per paura perché crede di non starci e quindi fa causare una colonna dietro di lei alcuni perdono il semaforo rosso è questo che dico quando dobbiamo capire che dobbiamo cercare di agevolare tutti anche il traffico guardare sempre bene spazi e ingombri Altra cosa per esempio le frecce io qui per esempio vado tutto a destra ci sono due scelte, chi va a sinistra e chi va a destra l'80-85% se non 90% vanno a sinistra e altri invece come me vanno a destra cosa dice il codice della strada? devi mettere la freccia perché devi indicare che si sta andando a destra ragazzi davanti a me tutti andavano a sinistra dietro di me era uno molto lontano e comunque poi è andato a sinistra chi devo avvertire con la freccia? c'è qualche pedone, ciclista, motociclista che non sa che io devo andare di lì magari allora rischio di recare danno o qualcosa non mi pare dietro c'è uno attaccato a me che quindi se sa che vado a destra o a sinistra per lui può cambiare la traiettoria che devi prendere alla velocità da tenere no allora perché devo mettere la freccia a destra? perché lo dice il codice, certo e infatti da questo punto di vista nulla da dire ma torniamo al discorso che avevo fatto per la questione della corsia libera più a destra allora cerchiamo di capire quando certe cose vanno fatte assolutamente per la sicurezza nostra e degli altri e quando certe cose possono essere anche non fatte